Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati, graissimi telespettatori di FanoTV come sempre siamo qui al mattino alle 7.30 in diretta per sfogliare i giornali all'interno di questo spazio occhio ai giornali che è appunto la rassegna stampa cominciamo però prima dal santo, oggi in realtà ricordiamo la chiesa cattolica ricorda i santi angeli custodi ognuno di noi ne ha uno, se non ci credete mettetelo alla prova così rimarrete sbalorditi il sole sorge alle 7.06, tramonterà le 18.49 vediamo la foto scattata dal nostro osservatorio meteorologico che si trova sul tetto della nostra emittente e che punta su Fano, il cielo è come vedete nuvoloso, la temperatura è di 15 gradi spaccati andiamo sulle previsioni della protezione civile delle Marche oggi prevede cielo nuvoloso con deboli diffuse precipitazioni in particolare nelle zone interne e nel pomeriggio con locali fenomeni intensi il progressivo esaurimento delle precipitazioni avverrà dalla serata odierna le temperature sono in aumento, i venti sud orientali di Brezza Tesa nella parte interna della regione invece sono venti moderati lungo la fascia costiera, il mare dunque sarà mosso per la giornata di sabato 3 ottobre avremo cielo che inizialmente sarà nuvoloso per nuvole stratiformi con progressiva diminuzione della nuvolosità e prevalenza di cielo sereno invece nel corso della giornata possibilità di qualche debole e isolato piovasco nelle prime ore della giornata le temperature sabato sono stazionarie o in lieve aumento quelle massime in lieve diminuzione invece le temperature minime i venti sono di Brezza Tesa inizialmente da settentrione in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio il mare sarà poco mosso foschie, attenzioni, foschie o locali banchi di nebbia nei fondovalle al primo mattino ecco dunque l'autunno domenica 4 ottobre avremo un cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di isolati e deboli piovaschi nella prima parte della giornata sui settori settentrionali e interni della regione le temperature sono senza variazione di rilievo quelle massime in lieve aumento invece le temperature minime domenica venti di Brezza Tesa sud occidentali nell'interno e sud orientali lungo la costa il mare sarà poco mosso dunque per la prima parte invece della prossima settimana ci sarà una lieve instabilità poi invece da mercoledì il tempo migliorerà allora apriamo adesso i giornali cominciamo dal resto del calino la pagina di Fano per la sezione del CODMA dell'istituto agrario ora servono però 150 mila euro è una lotta contro il tempo per essere pronti a dicembre e c'è questa strategia che va trovata per reperire i fondi i soldi per aprire appunto questa sede staccata dell'istituto agrario Cecchi c'è questo asse anche con la provincia di Pesaro inserire l'offerta formativa del Cecchi negli Open Day in programma a fine anno gli Open Day sono quei momenti in cui i ragazzini delle scuole medie vanno a vedere i vari istituti superiori dove pensano di potersi poi iscrivere in futuro la cronaca invece al Bartorno che è stato preso di mira per la seconda volta nel giro di qualche settimana dai ladri c'è stato un tentativo di furto un tentativo perché alla fine l'allarme ha messo in fuga i due malviventi che hanno dovuto abbandonare tutti gli arnesi compreso un grosso martello che come vedete da questa fotografia è stato utilizzato per rompere il buco qui in realtà ce n'è uno solo ma ne hanno praticati tre sulla parte dietro del locale che si trova sulla superstrada Fano Grosseto all'altezza più o meno di Lucrezia in direzione mare un tentato furto dicevo a due settimane dal colpo che ha fruttato ai ladri 80 stecche di sigarette per un valore di circa 4 mila euro danni esclusi naturalmente beh questa volta come dicevo ai ladri è andata male anche se dice Giacomo Brusciatti che è il compagno della titolare Cinzia Lessi insomma l'esperienza insegna che se tenti di entrare da davanti suona l'allarme così hanno fatto i buchi da dietro l'allarme è scattato alle 23.15 di mercoledì racconta Giacomo quando è arrivata la chiamata alla vigilanza che si è subito mosse vedete qui alcuni scatti con il risultato di questa operazione dei ladri inizia a Fano la settimana dedicata alla lingua dei nonni qual è la lingua dei nonni? il dialetto da domani parte l'iniziativa organizzata da Nicola Anselmi che vedete in questa fotografia il primo appuntamento è domani alle 17.30 alla mediateca Memo che si trova in centro con il convegno Giochiamo con il dialetto che vede come relatore Simoncelli ed interpreti di letture di alcuni autori che scrivono proprio in vernacolo fanese che sono Maria Grazia Mea Luca Longarini e Cristina Giommi poi ci sono altri appuntamenti che potrete leggere sul giornale ma sulla pagina fanese del Carlino c'è spazio ancora per la cronaca e la storia cui protagonista è una donna cubana che a un certo punto ha avuto un raptus di rabbia si trovava in via gentile da Fabriano quindi siamo nella zona più o meno del mare gli orti spacca pietrate l'auto del marito qui c'è tutta la storia che abbiamo raccontato anche ieri nel corso del telegiornale insomma qui viene raccontata sulle pagine del resto del Carlino oggi in Edicola a Cartoceto invece a Cartoceto c'è preoccupazione per un conto da pagare un conto salatissimo di 620 mila euro il comune di Cartoceto infatti dovrà risarcire 620 mila euro per gli espropri di un'area sportiva la Corte d'Appello di Ancona ha condannato dunque il comune e con quali conseguenze si domanda il responsabile il segretario del Partito Democratico di Cartoceto Gianluca Longhi che vedete in questa fotografia con quale conseguenze dicevo per la collettività questi soldi ovviamente non li tira fuori l'attuale sindaco né quello precedente quindi pagano i residenti pagano i cittadini e dice però il segretario del PD siamo consapevoli siamo ben consapevoli che questa è una tegola caduta ci addosso non a causa dell'attuale amministrazione ma pretendiamo dal sindaco che intraprenda la strada migliore per evitare ricadute negative sui cittadini invece a Fossombrone la Lega Nord si presenta ufficialmente per concorrere e per correre alle prossime elezioni amministrative quelle della prossima primavera e lo fa con una conferenza una conferenza alla quale hanno preso parte alcuni esponenti appunto della Lega il più noto sicuramente è Luca Rodolfo Paolini che è stato anche onorevole e deputato a Roma la prospettiva come dicevo la prospettiva immediata è chiara è quella delle elezioni comunali della prossima primavera Fossombrone il partito di Salvini ha fondato il coordinamento cittadino il partito punta sul tema degli abusivi e analizza gli atti del comune di Fossombrone poi c'è un'iniziativa invece un'iniziativa importante ci teniamo tutti alla nostra salute chiaramente soprattutto a quella del cuore e allora c'è questa iniziativa che si rinnova anche quest'anno tutti in cammino per stare bene da Fano e da Pesaro si parte poi ci si ritrova tutti quanti a metà strada ovvero a Fosso Segiore è un'iniziativa che si terrà il 4 di ottobre si chiama Camminata per il tuo cuore con partenze appunto da Pesaro e da Fano il ritrovo è previsto alle 9 e un quarto del mattino alla Pala di Pomodoro a Pesaro naturalmente e alla tensa struttura del Lido a Fano quindi poi due gruppi cammineranno per congiungersi all'arrivo a Fosso Segiore Ernesto Sgarbi dice il movimento aiuta ad evitare gli infarti 250.000 morti all'anno soltanto pensate con l'infarto apriamo adesso invece il Corriere Adriatico insulta il compagno questa è la pagina di Fano e gli distrugge l'automobile crisi d'ira in strada di una donna cubana l'uomo che ha un echimosi in volto non presenta la denuncia la collera espressa sassata in via da Fabriano intervengono squadra volante e vigili urbani i rischi del web 300 alunni istruiti dalla polizia distratto ha fatto tappa a Fano il tir della campagna nazionale e una vita da social diffusi i dati dei reati commessi su internet Fano come la terra dei fuochi i timori del comitato di Bellocchi a distanza di due settimane l'incendio alla cava e quello alla profigla si è evidenziato il degrado derivanti da infiltrazioni mafiose illegalità diffuse e conformismo vaccinazione in calo per errori comunicativi l'area vasta organizza un convegno in programma per oggi alla sala verdi del teatro della fortuna a partire dalle 8 del mattino che proseguirà per tutta la giornata articolato in diverse sezioni e con una tavola rotonda finale debiti fuori bilancio nessuno ne sa niente si votano con danne pecuniarie per 62 mila euro imbarazzo in consiglio comunale a Fano per illustrare le delibere relatore e il sindaco che non conosce gli atti idem l'assessore Cecchetelli il conto di cause azzardate e Minardi dice il presidente del consiglio del comune di Fano nessuna scorrettezza il regolamento è stato rispettato le mozioni delle minoranze sul carnevale sono state ritirate per preparare un documento comune un frontale invece un frontale tra due automobili a Barchi un grave incidente stradale ieri mattina a Barchi all'altezza dell'incrocio per Sant'Ippolito dove la strada conduce poi a Ville del Monte una donna di 77 anni di Sant'Ippolito è rimasta ferita ed è stata trasferita in proniosi riservata all'ospedale di Pesaro problemi alla foce del foglio invece sulla pagina di Pesaro si muove adesso la regione Marche il comune interviene per rimuovere il tappo ma da Palazzo Raffaello ad Ancona buone notizie per la soluzione definitiva vedete praticamente il foglia è ormai limitato a questo pezzettino qua saranno si e no tre metri di roba poi c'è il problema sempre dei lupi un lupo a zanna un capriolo nel giardino di casa ad Acqualagna la bestiola intrappolata tra le sbarre la vedete in questa immagine le sbarre del Cancello è stata ferita alla gola l'intervento di alcune persone ha fatto scappare l'aggressore cioè il lupo grida strazianti dell'animale mentre i 14 cani che si trovavano nella zona erano ammutoliti dalla paura cade dal tetto invece a Senigallia e muore un antennista il 50enne volato da un'altezza di due metri prima era cosciente poi purtroppo si è aggravato Cesare Barucca è scivolato da una scala mentre scendeva dal tetto il decesso è avvenuto a Torretti di Ancona e adesso invece apriamo il messaggero anche qui anche oggi le liste di attesa in primo piano liste d'attesa Ciccarelli tagliare i tempi sarà un impegno totale il direttore del servizio salute dice vero solo poche novità ma questa volta dirotteremo tutte le nostre forze in questo piano blitz nel pronto soccorso pesarese pronto soccorso trasformato in dormitorio sempre più senza tetto infatti usano i locali del pronto soccorso pesarese come alloggio ma i locali in generale dell'ospedale la polizia allontana una nomade che passa tutte le notti in sala d'attesa giro di vite anche da parte della direzione che ha ingaggiato una guardia giurata aumentati i controlli delle forze dell'ordine il primario Loffreda dice disagi per i pazienti e aggravio di lavoro per il personale ma finora mai situazioni di pericolo beh anche alle 5 torri a Pesaro in particolare via Marsiglia ci sono stati dei furti in appartamento i padroni di casa dormono mentre i ladri rubano questo è il peggiore delle situazioni che si possono verificare quando si parla di furti in abitazione un conto che entrano nel pomeriggio quando uno magari è fuori fuori casa un conto è quando entrano davvero di notte mentre tu dormi ci sono degli strascichi psicologici in particolare devastanti che restano per mesi se non per anni nelle persone qualcuno addirittura cambia casa perché non riesce più a stare laddove per una anche se per qualche minuto degli estranei sono entrati dentro la loro casa ed è una cosa davvero devastante invece sempre ancora dal messaggero da domani lavori per sgomberare la foce del foglio anche qui se ne occupa il messaggero poi sulla fusione sulla fusione questa sera c'è un appuntamento importante a Pesaro perché c'è un incontro al quale parteciperà un incontro pubblico al quale parteciperà per la prima volta anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci il titolo fusione spunta il controreferendum il comitato di Monbaroccio contrario ad unirsi con Pesaro raccoglie firme per una consultazione limitata al solo paese perché come sapete invece il referendum è per tutti quindi immaginate Pesaro 100.000 abitanti e Monbaroccio 2.000 il risultato è assolutamente scontato stasera intanto come dicevo nella palestra comunale l'assemblea con i sindaci Vichi e Ricci per spiegare le ragioni del sì chiudiamo la rassegna stampa con la pagina di Fano del messaggero un doppio sopralluogo per la bonifica dell'amianto a San Lazzaro prima all'ex matatoio e poi al palazzetto dello sport agliende stanno entrando quindi nel vivo gli interventi più impegnativi gli uffici comunali sono al lavoro l'assessore Caterina del Bianco dice da lunedì il basket si sposterà alla palestra dello scientifico e poi sotto il bartorno assaltato dagli stessi ladri ma questa volta fuggono a mani vuote ora negli articoli non è riportato noi chi ha seguito ieri sera il nostro telegiornale Occhio alla Notizia in realtà ve lo abbiamo fatto vedere non solo il bartorno ma anche il King Sport per esempio è stato preso di mira dai ladri anche qui un tentativo di furto è andato a vuoto perché poi si è messo in moto un meccanismo all'interno del King Sport che ha messo in fuga i ladri un meccanismo che prevede poi del fumo eccetera eccetera quindi due sono stati i tentativi di furto bisogna capire adesso se è la stessa piccola banda di due persone oppure sono altri ladri i due furti sono stati messi segno in due orari completamente differenti uno intorno alle 22 e 30 l'altro nel cuore della notte vaccini contro cultura da contrastare il dirigente Agostini dice le vaccinazioni sono in diminuzione mentre ricompaiono malattie ritenute debellate da tempo e ancora vittime delle stragi in mare preghiera di tutte le religioni un'iniziativa organizzata dall'Africa Chiama di Fano la nostra segna stampa si chiude qui vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo che questa sera alle 20 e 30 c'è il nostro telegiornale e per le vostre segnalazioni che sono per noi preziosissime come sempre rimaniamo in contatto e inviare segnateci pure i vostri sms anche con whatsapp che è un programma gratuito al 338 49 68 250 buona giornata a tutti voi arrivederci